Wuhuuu! Vroom, 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 vroom! Mason James, non c'è tempo per giocare sulla sabbia! Stavo solo scaldando questa Wrangler Superlift, è fantastica! E la scatola misteriosa te l'ha data per trovare il prossimo tesoro! Giusto! Mi puoi rileggere l'indizio? Sulla spiaggia di Copacabana troverai surf, sabbia e divertimento. Segna un gol sulle dune e il tesoro apparirà in quel momento. Beh, sono sicuro che siamo nel posto giusto. La spiaggia di Copacabana è la più famosa di Rio de Janeiro, in Brasile. Che cosa significa gol sulle dune? Forse è qualcosa che ha a che fare con il pallone sul tetto della tua auto. Wuhuuu! Vedi qualcosa che ti sembra un campo di dune in cui fare gol? Non ancora! Questa spiaggia è lunga ben quattro chilometri e ci sono colline e montagne ovunque! Mi è venuta un'idea! Vediamoci all'eliporto! Vroom vroom! Il famoso esploratore Mason James sfreccia sulle strade di Rio de Janeiro per raggiungere l'eliporto! Sono contento che oggi non ci sia il carnevale di Rio de Janeiro. È un evento così grande che chiudono quasi tutte le strade! Dove sei, Kyla? Sono qua su! Sali a bordo, così avremo una vista della spiaggia dall'alto! Wuhuuu! Ottima idea! Andiamo! Wuhuuu! Wuhuuu! Osserviamo le montagne alla ricerca di un gol sulle tune! Non vedo niente, ma... Guarda lì! Quel gommone ha messo una bandiera di pericolo! Deve essere successo qualcosa! Wuhuuu! Wuhuuu! La barca sta affondando! Dobbiamo mettere in salvo quelle persone! Questa corda di sicurezza dovrebbe andare! Tieni fermo l'elicottero! Oh no! Il pallone! Wow! Il capitano della barca è riuscito a prenderlo! Ora lo tiro su! Presi! Sono tutti salvi nella jeep! E il capitano ci ha appena dato un grande indizio! Il nostro pallone gli ha ricordato di un posto su Morro Dolemi, che somiglia a un campo da calcio! Guarda! Eccolo lì! Se noi li avessimo salvati, non lo avremmo mai trovato! Riportiamo questi pescatori a terra! I dottori e gli infermieri si assicureranno che stiano bene! Ehi! Dov'è il mio pallone speciale? Proprio qui, Mason James! Te l'ho rubato mentre guidavi! Oh no! La tristemente famosa esploratrice Emerson Felix! Ehi Emerson! Stai andando nella direzione sbagliata! Con questa macchina sembra sempre sbagliata! La sua auto ha due paraurti anteriori! Torna subito qui! Lascia perdere Emerson! Mai! Ups! Questa auto ha qualche problema sulla sabbia! La scatola misteriosa sapeva che mi sarebbe servita una 4x4! Forza Superlift! Andiamo! Torna qui! Devo colpire il pallone perfettamente per segnare quel gol! Nessuno può superarmi! Ho due motori che vanno in due direzioni! Quest'auto è perfetta per segnare un gol! Ti serve un assist? Puoi scommetterci! Sono bloccata! E BAM! Guarda! Eccolo lì! Mi dispiace Emerson! Sembra che quell'auto ti abbia solo creato ancora più problemi! Nooo! Wow! Per fare questo tiro ci serviva proprio una 4x4! Ci sono quasi! Preso! Ci vediamo a casa, sorellina! Adesso vediamo di che tesoro si tratta! Una mappa della Florida, una lampadina e ora un cerchio rosso! Dove ci vuole portare questa scatola misteriosa? Questo indizio deve essere importante! Perché credi che sia su una pergamena giapponese? Sembra che abbiamo un'altra missione! E scommetto che è in Giappone!